è un buon sabato pomeriggio da Paranite Radio special show Balearica sono le 18 è l'ora dell'aperitivo è una bella cosa sentire un po' di musica house tech house e minimal sempre su Paranite Radio oggi in studio con noi l'artista di Torino Magic Meku che ci presenterà due nuove produzioni sue ok adesso partiamo subito alla grande con i Martinez Brothers ultima produzione da Izzo Grazie a tutti 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 Grazie a tutti